Il Libano è un piccolo paese che conta 4,5 milioni di abitanti, ai quali si aggiungono circa 2 milioni di profughi. Da più di 40 anni si trova in una situazione di precarietà dovuta a numerosi fattori, economici, politici e sociali. Ha vissuto anni di guerra civile e non. Attualmente sta affrontando una catastrofe di origine economico-finanziaria, verificatasi con il default del governo nel 2020. Gli scenari di guerra nel Medio Oriente non favoriscono una popolazione già all'estremo. In generale la situazione attuale è molto difficile, molto complicata. Gli scenari di guerra nel Medio Oriente influenzano veramente molto sulla situazione in Libano. Abbiamo da tanti anni una guerra che continua, ma anche se non ci sono bombardamenti, una vera guerra, ogni volta c'è una cosa differente. E adesso la guerra la più pericolosa, la più difficile che abbiamo è la crisi economica, la situazione economica che è catastrofica. Una cosa che non è stata, secondo me, non è stata arrivata mai in un altro paese. Vi do un esempio solo per essere chiaro che il valore del dollaro che era a 1.500 lira libanese, come la lira italiana nel tempo, adesso ha aumentato a 90.000. Ma 90.000 vuol dire 6.000%, 60 volte di più. Ma questo vuol dire che la gente ha perso quasi tutti i soldi che hanno alla banca. E anche le banche sono chiuse, non si può tirare neanche se il valore ha diminuito molto. Questo per dire che la guerra continua e minaccia veramente tutto il Libano. Concludo dicendo che l'ansia che abbiamo per il futuro di questo popolo, il popolo libanese, perché sentiamo che c'è sempre un, come dire, un piano, una decisione internazionale da tanti paesi insieme che dobbiamo cambiare tutto in questo Medio Oriente e anche in Libano. Grazie. Fondazione Punto Missione interviene in Libano dal 2015, a fianco del partner locale MEC Libano, promuovendo un programma di sostegno a distanza, finalizzato a garantire un supporto continuativo a persone e nuclei familiari, che oggi versano in stato di indigenza e attivando progetti di microcredito. Punto Missione is helping more than 30 families in a direct way. They are providing a monthly small amount of money for food or medication or school fees or house rental for a long periodo now. Second part, we are working on different projects targeting the less unfortunate women. The Women Empowerment is a two-year project containing several skills to give to the women, helping them to work and to sustain their families, and at the same time to introduce the women in the society. The projects are various, such as the knitting, the sewing, the patchwork, the embroidery, the computer, the financial knowledge, and the languages such as English and Arabic. The social media platforms. And of course, there will be an awareness sessions and a psychosocial support during all the sessions.